Continuiamo dopo la dirigente dell'Archimede, c'è qualche altra scuola? No? I vari rappresentanti delle associazioni di Rosumini presenti vorrei invitare subito l'ultima arrivata che sono i Lions Roberto, dove è il presidente? Vieni qua, Roberto Chiavonella Sì, esatto, siamo gli ultimi arrivati siamo a parte di un gruppo di giovani ragazzi che vogliono dare sicuramente un contributo alla risoluzione di questo problema, speriamo un giorno Innanzitutto grazie per l'opportunità di farci essere presenti quando c'è un problema così difficile da risolvere noi abbiamo il dovere tutti quanti di agire in maniera sincrona affinché facendo più rumore possibile possiamo riuscire ad essere un giorno parte della risoluzione ora, io ho un unico obiettivo dopo di che vi lascio che è quello che mia figlia un giorno possa ricordare l'8 marzo non con la stessa amarezza con la quale lo ricordiamo oggi quindi io penso che se agiamo assieme tutti in maniera, ripeto, sincrona possiamo essere sicuramente risolutori del problema grazie ancora bravo Roberto grazie a tutti grazie a tutti Grazie.